Berto, Berto, ho sentito un rumore provenire da sotto il letto, forse è un ladro, che cosa? Ho sentito un rumore provenire da sotto il letto e forse c'è un ladro, vedi? Tutto il letto? Vedi? Ma che ladro è lato? E' una faccia di una persona così per bene, stia tranquillo, mia moglie un po' a prezzino E' un ladro, mia moglie un po' a prezzino. E' un ladro. Ehi, la mia moglie un po' a prezzino. Ehi, l'altro. Ehi, l'altro. Ehi, l'altro. Ehi, l'altro.